Advisor di giugno è in edicola, scopriamo insieme i temi principali di questo numero. Maurizio Bufi è il nuovo presidente dell'ANASP. Su Advisor andiamo ad analizzare come cambierà la presidenza dell'Associazione dei Promotori Finanziari. Fondi Comuni cambia la tassazione, le istruzioni per l'uso su Advisor di giugno. Il dossier di Advisor di questo mese è dedicato all'Eire 2011, l'Expo Italian Real Estate. Andiamo con Marcella Persola a fare il punto sulle novità del settore. Questi sono solo alcuni dei temi di Advisor di giugno in edicola. Grazie per la visione! Grazie a tutti!